Come reso noto da una circolare recentemente emanata dalla struttura commissariale che fa capo al generale Figliuolo in coordinamento col Ministero della Salute, in Italia dal 3 giugno non ci saranno più le fasce d'età nel prosieguo della campagna di somministrazione e dunque scompariranno i criteri vincolanti e gerarchici per accedere al sistema di prenotazione del vaccino. Le regioni potranno però decidere autonomamente come gestire gli appuntamenti, se in questo caso seguire nell'immediato le direttive del Piano Nazionale in merito all'abolizione delle fasce d'età oppure procedere con cautela assicurandosi di aver raggiunto una percentuale significativa di vaccinati nelle fasce più elevate prima di decretare il bomba libera a tutti. Molto dipenderà dunque dall'andamento della campagna di ciascuna regione e dalle strategie adottate a seconda delle contingenze. La Toscana, almeno per il momento, seguirà la linea dettata dal governatore Gianni. Da martedì 1 giugno saranno aperte le prenotazioni ai trentenni, dal 7 invece per la fascia dei venti. Sempre dal 7 giugno saranno consentite le vaccinazioni nelle aziende della regione, alle quali si potrà accedere con preregistrazioni tramite un apposito portale. Uno strumento fondamentale per capire la necessità delle diverse realtà presenti sul territorio. 30.000 le dosi messe a disposizione per le prime tre settimane. I datori di lavoro, inoltre, per questioni legate al tema della privacy, non potranno comunicare alla regione i nomi dei dipendenti che faranno richiesta del trattamento, ma potranno indicarne solamente il numero. I vaccinatori saranno i medici aziendali che potranno comunque coinvolgere altri professionisti. Infine, l'assessore alla salute Bezzini si sta confrontando in queste ore con i pediatri per mettere in moto, nella maniera più sicura e celere possibile, la vaccinazione della fascia 12-15 anni, per garantire una copertura massiva prima dell'inizio dell'anno scolastico. Grazie 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 Grazie